Bentornato sul canale youtube di semprefarmacia.it A tutti sarà capitato di avere le gambe stanche, gonfie e pesanti la sera, oppure di essere svegliati da un crampo improvviso Sono evenienze spiacevoli, ma nulla in confrutto a ciò che prova chi soffre della sindrome delle gambe senza riposo In questi casi durante il sonno si manifestano dei fastidi profondi alle gambe, descritti come formicolio, bruciore e dolore Tutte queste sensazioni spiacevoli svegliano il malcapitato che è costretto a muovere le gambe per trovare sollievo Le lunghe passeggiate notturne e la necessità di muovere le gambe anche nel letto o di assumere determinate posizioni per stare meglio Di fatto impediscono il sonno, con conseguenze a lungo termine anche sulla salute cardiovascolare Ma quali sono le cause e i rimedi? Ed è possibile intervenire con integratori alimentazione? Ne parliamo in questo video, se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale La sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo del sonno del quale soffre tra il 5 e il 15% della popolazione Colpisce prevalentemente le donne e le persone anziane ed è stata osservata una certa familiarità Le cause non sono individuabili nella maggior parte dei casi, ma l'ipotesi è che vi sia una riduzione della produzione di dopamina a livello cerebrale Questo è un neurotrasmettitore che controlla non solo lo stato di benessere ma anche i movimenti È stata riscontrata una correlazione tra la sindrome delle gambe senza riposo e alcune condizioni fisiologiche o patologiche Come ad esempio la carenza di ferro che può a sua volta determinare una riduzione della produzione di dopamina O patologie come il morbo di Parkinson o malattie reumatiche come l'artrite reumatoide o la fibromialgia Malattie metaboliche come il diabete e l'ipotiroidismo oppure l'insufficienza renale Infine la gravidanza nel terzo trimestre, ma in genere in questi casi sintomi scompaiono dopo il parto La sindrome delle gambe senza riposo può essere anche scatenata dall'impiego di alcuni farmaci antidepressivi e antipsicotici Ma anche antipertensivi, antistaminici e addirittura antinausea Infine sembra avere un certo impatto anche lo stile di vita Sarebbero da evitare fumo, alcol, eccesso di caffeina, sovrappeso e obesità, sedentarietà e stress Ma insomma questi fattori sono da evitare in generale, non solo se si ha familiarità con questa sindrome Generalmente la sindrome delle gambe senza riposo viene diagnosticata dal medico di base o da uno specialista del sonno Possono essere prescritti anche degli esami per individuare eventuali condizioni correlate o scatenanti Ad esempio le analisi del sangue per individuare una eventuale carenza di ferro O la polisonnografia per studiare il sonno del paziente Possono essere effettuati anche esami della funzionalità muscolare per escludere altre patologie che hanno dei sintomi simili Nei casi lievi o per la prevenzione in caso di familiarità si consiglia di mantenere uno stile di vita attivo Mantenere il peso forma, avere una sana alimentazione, evitare fumo ed eccesso di alcol Ovviamente vanno seguite tutte quelle che sono le regole per un buon sonno e ne abbiamo parlato in questo video Se c'è carenza di ferro che ovviamente può diminuire la produzione della dopamina si ricorre a farmaci e integratori In questo video abbiamo parlato di come rimediare alla carenza di ferro L'alimentazione deve essere sana e variata, purtroppo non esistono dei cibi ricchi di dopamina Ma ci si può assicurare di avere quei nutrienti che sono necessari per la produzione di dopamina Tra questi la fenilalanina contenuta in legumi, carne, pesce, uova e germe di grano O la tirosina contenuta in alcuni frutti come la banana o l'avocado, nei latticini e nella frutta secca Nei casi gravi il medico può ricorrere a farmaci agonisti della dopamina Questi farmaci come il pramipexolo, il ropinirolo e la rotigotina legano gli stessi recettori della dopamina mimando nell'azione Gli effetti collaterali sono sonnolenza, nausea, mal di testa e aumento dei comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo Altri farmaci impiegati sono alcuni antiepilettici, le benzodiazepine e gli antidolorifici oppiacei in caso di dolore grave Abbiamo visto cos'è la sindrome delle gambe senza riposo, quali sono le cause e i rimedi Se hai domande o vuoi darci la tua testimonianza lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te